Musica 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 Ne u ovim uvijetima je neki sto fragova Razumno Ili? Mislim da je ostalo 150, čekaj smanjiš Uvijek 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 Cekaj zašak sam tak dobro kreći V V Aha, umro E tudi Zagrajavanje, ajde daje idemo nekaj Kaj gdje ove velike mora Uvijek U! U prednosti škete A od 15 išni ekranu dalje metal od mene Znao kak za jednu ovu vijezbu non so quando vedo come stucano e ora mi guarda più veci monitor un pozzo un pozzo C'è un po' di più. si è presto non si trattaro è ok? perchè mi ha detto che ci sono 3 vieti quindi ci sono 3 vieti ma è un'altra cosa che ci sono un po' di più e ci sono un po' di più e vediamo! ed è un po' di più ci sono tre vieti e ai i mesi Svi da Cristo! a 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